ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo allora liquido si chiama hype è un cioccolato bianco alla fragola una squisitezza abbiamo preso il nostro negozio di riferimento da svapo caffè ricordiamolo la spezia marina di carara moriciara andate a trovare se avete dei minuti di tempo ha dei liquidi squisiti ti salutiamo cristiano ciao cristiano ora andiamo a fare la prova di questo liquido è un 70 30 california bocita chubby come ci piace a noi per il quale vagabri drippa 0 nicotina 0 nicotina perché fa male la nicotina piano piano almeno siamo riusciti a diminuire la nicotina io andrò a provare con la mac pro e druga e io invece con ghani di ti svapo e l'apocalips che c'è l'esistenza 010 come ci piaccia non ci piace a noi il tubetto spinge bene assolutamente ora prendiamo a fare quando ci arriverà il pacchetto misterioso il vero recensirlo andiamo a recensire a fare la prova a vedere sempre da ti svapo abbiamo fatto un bell'ordinino bello il vapore ne fa subito la fragola subito la fragola io sento qualche spezia non lo so se no è il cioccolato che magari magari si è probabile non riesce a scaldare bene ciò sentire però la cremosità mi rimane buonissimo a meno sembra tipo un c'è pacchetto panna e fraguola quello che era mezzo rosa e mezzo bianco che voto ci dai questo liquido che io gli do un nome che a me mi piace non smaga tanto rimane bene dolce in bocca però non è quel dolce che dici lo snap un po e non cambia il vero no ce la fai fumare all day anche io ci do un otto e mezzo o un otto e mezzo un buon liquido non me lo aspettavo da questo liquido perché di solito queste boccette ciavi qui ingannano sembrano un po quelli qui di balesia invece questo qua californiano buono buono sono contento dell'acquisto che abbiamo fatto consigliamo consigliamo a chi piace i pregosi fagolosi tipo fruttoloso tipo frutto si è vero tipo frutto buono dalla taverna dello swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su instagram e la pagina su facebook la taverna dello swap un bacio da gabriel birillo